Un'altra iniziativa della Polizia di Stato dedicata ai bambini si è conclusa nei giorni scorsi a Palermo. Gli agenti della Polfer del capoluogo siciliano, poco prima di Natale, hanno infatti ospitato alla stazione centrale una cinquantina di bambini della scuola primaria Leonardo Sciascia del quartiere Zenne di Palermo nell'ambito del progetto Train to be Cool che, per l'occasione, è stato ribattezzato Tree to be Cool. I piccoli alunni, accompagnati dai loro docenti, hanno decorato l'albero di Natale della Polizia Ferroviaria di Palermo con gli addobbi che hanno realizzato in classe sul tema della legalità e della sicurezza ferroviaria trasferendo nelle decorazioni le regole di comportamento apprese nel corso degli incontri che i bambini, nelle scorse settimane, hanno avuto a scuola proprio con gli agenti della Polfer. Nell'occasione è stato allestito uno stand nel piazzale della stazione dove gli agenti hanno mostrato ai bambini gli strumenti e i mezzi in uso alla Polizia Ferroviaria. I poliziotti hanno accompagnato i piccoli studenti in un percorso di conoscenza dell'ambiente ferroviario culminato in collaborazione con Trenitalia ed RFI con la visita di un treno. Infine, non poteva mancare uno speciale aiutante della Polizia, Babbo Natale, che ha regalato ai bambini un album da colorare raffigurante i diversi aspetti della quotidianità del poliziotto e altri gadget.